Radio Radicale, siamo con Bruno Tabacci per parlare di spoil system di pubblica amministrazione perché oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha concesso un'intervista al quotidiano romano Il Messaggero parlando della pubblica amministrazione annunciando, vedremo se si farà la cacciata dei burocrati del no. Chi sono i burocrati del no? Sono coloro che a modo di vedere di Crosetto non collaborano con il governo. Noi sappiamo che da oltre 30 anni c'è un ampio dibattito sullo spoil system, ovvero se la pubblica amministrazione debba avere le porte girevoli per favorire l'ingresso in posizioni chiave di funzionari che sono fedeli al governo del momento. La storia amministrativa italiana però ci dice un'altra cosa, che attraverso la neutralità dei funzionari pubblici, che noi abbiamo avuto modo di conoscere sin dai tempi del periodo giolittiano, non si è mai fatto una scelta radicale. Allora, innanzitutto, onorevole Dabbacci, come ha trovato questa intervista di Crosetto? Qual è il suo giudizio politico? È preoccupato? L'ho trovata istituzionalmente molto sgradevole il fatto che poi il ministro Crosetto sia considerato un uomo di equilibrio, e talvolta si ricordano le sue radici democristiane, è contraddetto da questa intervista da cui trasuda un senso dello Stato assai precario. È chiaro che i vertici amministrativi burocratici dello Stato, moltissimi dei quali sono entrati per concorso, non è possono rispondere ai mutamenti di governo, devono rispondere al giuramento che hanno fatto nei confronti della lealtà verso lo Stato. Alcune leggi poi danno dei poteri specifici a loro, penso ai poteri della ragioneria generale dello Stato, che ha l'ultima parola in materia di coperture. E ho visto che è intervenuta in extremis anche per correggere la manovra del governo, così come era stata poi rielaborata in seno la Commissione Bilancio, con 44 rilievi. Per fortuna che c'è la ragioneria generale dello Stato, ma questi sono problemi che ci sono stati anche nel passato. Ma il modo virulento con cui Crosetto li ripropone oggi è molto allarmante, perché se tutte le volte che è cambiato un governo noi avessimo ribaltato la struttura burocratica e amministrativa, poveri noi, io ovviamente sono anziano, sono cresciuto con altri principi, ma pensavo che un po' di quella cultura dello Stato si fosse nel frattempo diffusa. Invece vedo che l'idea dello spoil system, per cui chi arriva si prende tutto, viene rilanciata oggi. Mi pare che sia una cosa molto, ma molto negativa. Mi ha colpito, mi ha colpito proprio per la sua negatività, perché io sono stato non solo a favore di un ordinato passaggio, e ho apprezzato molto Draghi, che ha favorito, a seguito del risultato elettorale, un passaggio delle consegne molto ordinate tra il suo governo e il governo dell'onorevole Meloni. E ho pensato anche in queste settimane che la Meloni si muovesse con una certa attenzione. Questo uscito di Crosetto, che viene considerato uno dei più stretti collaboratori della Meloni, mi mette in grande allarme. Mi mette in allarme per la visione che ho del Paese, per la visione che ho dello Stato, per il sentimento di rispetto che ho nei confronti delle istituzioni. E quindi il fatto che si siano vinte le elezioni non li può mettere in condizioni di agire con una tale arroganza. Sembra un monito nei confronti di chi, dovendo servire lo Stato, deve prima farsi obbediente del potente di turno, il che non è una buona regola. Lei ritiene che la chiave per capire questo scontro riguardi sostanzialmente il Ministero dell'Economia e il ruolo di alcuni funzionari del Ministero dell'Economia che non condividerebbero le scelte del nuovo governo o comunque non le asseconderebbero? Ma comunque è una posizione sbagliata. È già avvenuto nei tempi recenti con il Conte 1. Già si era sollevata una polemica nei confronti dei vertici del loro capo di gabinetto. E quindi mi sembrano delle cose che hanno un significato molto ma molto negativo, danno un'indicazione totalmente sbagliata. Il governo tra l'altro con i poteri di cui dispone ha la possibilità di orientare e di farlo attraverso un principio di autorevolezza che deve essere affermato, non con le minacce. Che cosa l'ha colpita in particolare? Ho visto che lei ha sottolineato alcune parti dell'intervista di Grosetto con grande attenzione. Ma non si può pensare di fare politiche nuove e diverse se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l'alternativa. Questo è una frase esacrabile, non ne capisco il senso, se non quello di un'idea dello Stato appunto, che chi vince le elezioni prende tutto, ma non mi pare che questa sia un'idea di serietà, un'idea di continuità. Lo Stato ha una sua continuità, come ce l'hanno le istituzioni. Mi viene in mente di pensare, visto che in queste settimane abbiamo respirato anche qualche sottesa polemica nei confronti del Presidente della Repubblica. Vediamo di non esagerare. Ognuno faccia il suo dovere e i poteri dello Stato tengono conto dei ruoli diversi che ci sono. Noi abbiamo bisogno di contrappesi, altro che l'idea di un presidenzialismo come si respira con la seminagione dei cosiddetti governatori. Là dove ci sono dei presidenzialismi affermati in senso democratico, essi hanno dei contrappesi determinanti, non solo nel ruolo di controllo del Parlamento, ma anche nei ruoli di autonomia della magistratura. Non sovvertiamo questo equilibrio che in Montesquieu era molto chiaro per andare verso delle avventure che non sono utili, perché già l'Italia soffre e ha problemi di non poco conto. Ma ad esempio questo governo che in alcuni passaggi si è esercitato in polemiche sottese con l'Europa, sono tutte cose che non servono. Noi abbiamo bisogno di integrarci di più, non di meno con l'Europa. E quindi la domanda non è capziosa se c'è bisogno di più Italia in Europa o di più Europa in Italia. La questione di fondo è che noi dobbiamo sentirci protagonisti in quanto fondatori dell'Europa. Quella è stata l'idea più brillante dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che coloro che effettivamente vogliono perseguire una strada di pace e di progresso hanno potuto portare avanti. Non per nulla erano statisti in larga parte di tradizione democratico-cristiana, a cominciare dal Cide De Gasperi, che credo sia emblematicamente stato non solo il presidente della ricostruzione, ma anche il presidente delle grandi idee come quello dell'Europa e come quello della CED, Comunità Europea di Difesa. Forse se invece di averla messa in soffitta nel 1954 l'avessimo portata fino in fondo non ci saremmo trovati neanche allo sbocco dell'Ucraina, perché quello che si chiede oggi è che l'Europa assuma una sua responsabilità diretta anche in termini di difesa. Ed è un principio indubbiamente sacrosento. Non possiamo attribuire agli Stati Uniti questo ruolo. Lo deve fare l'Europa. Lo deve fare l'Europa in un contesto in cui le parole di Crosetto non si segnalano per l'equilibrio. Senta, secondo lei esistono alti funzionari dello Stato che possano essere definiti di parte? Se li ricorda? No, secondo me no. Guardi, io sono stato... ho iniziato nel 1981 con Marcora. Allora il capo di gabinetto era Corrado Calabro. Il capo dell'ufficio legislativo era Corrado Carnevale, che poi fu contestato per... io dico... erano due uomini, sono stati due grandi servitori dello Stato che avevano una raffinata cultura giuridica e che non avevano altro che da portare avanti l'interesse e il bene comune, l'interesse dello Stato, perché quella era la cultura giuridica che li pervadeva. Quindi se i maestri sono quelli, io penso che anche chi è venuto dopo ha potuto, diciamo, determinare questa capacità di servire secondo un principio di continuità. E anche il Ministero dell'Economia, queste personalità ci sono sempre state, ci sono ancora. Quindi io penso che sia essenziale. Chi arriva al governo deve essere capace di integrare chi c'è e meritarsi il rispetto di coloro che servono allo Stato. Non pensare di minacciarli con delle iniziative molto strane, dicendo, adesso arriva lo spoglio, sì, che facciamo via tutti. A parte che poi non sarà neanche possibile. Hai già sbagliato minacciarlo. Chiarissimo. Allora, io mi auguro che questi propositi di Grosetto non siano, diciamo, il prologo di una riforma, di un'introduzione di uno spoil system. Io la ringrazio. Ringrazio Bruno Dabbacci che ci ha spiegato le sue valutazioni su questa intervista del Ministro della Difesa Grosetto al quotidiano Il Messaggero. Grazie. Grazie a voi per avermelo chiesto. Grazie a voi.